Estoria 2012, ottavo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda API. Il festival è ideato ed organizzato dall'associazione culturale Estoria e si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Italiana Editori, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche e di sponsor privati. Sta per iniziare ora l'incontro intitolato Metterò le mie parole nella sua bocca, chiamati da Dio. Intervengono Mario Cucca e Mario Liverani, interviene e coordina Giorgio Giordani. Buona storia a tutti. A me è il compito, essendo di casa, di dare avvio a questo incontro. Abbiamo sentito qual è la tematica, è una tematica particolare, questa esperienza profetica legata a un territorio, il Medio Oriente, l'Oriente vicino, però antico. L'esperienza è quella profetica. Noi abbiamo pensato così, nel dare comunicazione di questa tematica, di dividere un po' il tema in tre momenti. Il primo momento sarà gestito dal professor Mario Liverani. Credo che nel libretto avete quella che è stata il suo lavoro e quindi la sua competenza. Ringrazio, difatti glielo dicevo, che sentirmi vicino, anche se di età siamo vicini, fa un certo che, perché io ho studiato i suoi libri, quindi evidentemente è di grande garanzia. Per questo lo saluto e dico anche a voi di ascoltarlo con quell'attenzione che è propria di questa competenza. Poi la seconda parte sarà gestita dal professor Mario Cucca, che è molto giovane ma ha già pubblicato, è insegnante a Roma, insegna anche a Gerusalemme, quindi ha una sua competenza e gestirà in maniera particolare quella che è la parte letteraria di questa esperienza. Cioè noi abbiamo nel famoso Biblia, cioè nella Bibbia, alcuni libri che sono i libri profetici. Lui ci parlerà, ci darà una relazione un po' di quella che è la peculiarità di questo bagaglio letterario. Alla fine io tenterò così di illustrare e illustrarvi quelli che sono gli elementi caratterizzanti della figura profettico biblica come emergono proprio da questa letteratura. Questo è un po' il tratto, l'indice di questo nostro incontro. Quindi lascio la parola al professor Liverani che darà il suo apporto. Grazie. Io innanzitutto devo ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione. È la seconda volta che vengo, venni due anni fa per Orienti e rimasi come anche oggi assolutamente ammirato dell'ospitalità e dell'efficienza. Dunque a me spetta di cercare di inquadrare il profetismo biblico che è un fenomeno unico diciamo, però inquadrarlo nel suo contesto storico perché per quanto unico sia Israele è collocato insomma alla sua collocazione spazio temporale specifica che aiuta a capire tante cose. Dunque nell'Antico Oriente e non solo ma insomma nell'Antico Oriente il desiderio di sapere cosa succederà dava luogo a due diversi canali. Un canale di informazione umana, reale, insomma di mano a informatori, messaggeri, esperti e quant'altro e un canale di informazione divina o mediata attraverso certamente degli operatori umani e questi due tipi di informazioni non sempre coincidevano e allora la filosofia diciamo imperante era che in caso di non coincidenza bisognava assolutamente seguire l'indicazione divina ovviamente. Per esempio i due grandi re modello della storia mesopotamica Sargon e Naramsin erano l'uno, Sargon il modello di chi avendo indicazioni umane e divine discordanti seguiva l'indicazione divina e invece il suo nipote Naramsin seguiva le indicazioni umane andando incontro al disastro. Io ho provato a immaginarmi in un articolo scritto anni fa la giornata di lavoro di un re a Siro il quale la mattina dopo aver fatto colazione non prendeva il caffè all'epoca ma insomma riceveva informazioni dai due canali cioè gli arrivavano le indicazioni che venivano dagli astrologi in particolare e le indicazioni che gli venivano dai governatori delle province dai vari informatori umani e con la differenza che le informazioni che venivano dal mondo divino per paradossale che sembri avevano un rimedio cioè si poteva mettere in atto un rituale che annullasse il cattivo presagio. Invece le informazioni che venivano dal canale umano c'era poco da fare. Ora quest'idea del canale divino pone un problema di accesso all'informazione che viene dal mondo divino e qui per praticità sapendo che il tempo corre però credo di dover distinguere delle pratiche diciamo divinatorie delle pratiche oracolari e delle pratiche propriamente profetiche. Le pratiche divinatorie sono basate sull'idea che il mondo abbia una coerenza interna per cui quello che succede in un settore o ad un livello corrisponde a quello che succede ad altri livelli allora se un livello è irraggiungibile per la nostra conoscenza il rimedio è di trovare un livello accessibile che ci dia un indizio sul livello inaccessibile cioè di usare delle tecniche divinatorie e ce ne sono tante provocate e non provocate. In Mesopotamia in particolare diciamo per tutto il secondo terzo secondo millennio in particolare prevalse l'esame dei fegati delle vittime delle pecore. Nel primo millennio prevalse l'astrologia con l'enorme differenza che i fegati dipende insomma danno indicazioni puntuali variabili. L'astrologia essendo basata sull'astronomia è matematicamente vincolante non c'è niente da fare e questo però apre il campo alla possibilità di prevedere. Dopo ci tornerò molto rapidamente. Le pratiche oracolari sono diverse nel senso che l'oracolo significa mettersi in comunicazione col mondo divino chiedendo ponendo una domanda e aspettando la risposta. Allora in Mesopotamia in particolare il dio che sa quello che succede e che succederà è il dio del sole Shamash quindi per esempio abbiamo un sacco di interrogazioni oracolari al di Moshamash e gli si chiede allora se io vado faccio questo percorso arrivo lì c'è una città l'assedio qual è il rispondo? Riuscirò ad espugnarla o no? Riuscirò dopo averla espugnata riuscirò a tornare a casa sano e salvo o no? E si pone questa domanda. La risposta arriva mediante una procedura divinatoria, cioè si sacrifica una pecora e si vede il risponso è no. Allora non farò quel percorso, non assederò quella città ma se assedio quell'altra che stavolta andrà bene e si continua così finché c'è un risponso che dice sì, vai, fa, va bene, puoi farlo, riuscirai e allora si va. Il terzo caso che è quello più vicino al tema, quello pertinente al nostro tema, la profezia è invece non io che chiedo al Dio cosa fare se riuscirò o meno a fare la tal cosa, ma è il Dio di sua iniziativa che mi trasmette un messaggio mediante un interlocutore, un mediatore. Allora questo c'è anche al di fuori di Israele e vi faccio tre casi rapidamente sperando di essere conciso e chiaro al tempo stesso. Allora il primo caso sono dei testi che chi mai volesse sono anche tradotti, pubblicati in italiano dal compianto padre Cagni, sono le cosiddette profezie di Mari. Mari è una città del medio frate del XVIII-XVII secolo e ci sono delle lettere che affluiscono alla corte del re dai governatori delle province o da interlocutori esterni e quindi gli scrivono una lettera, se fossero interni glielo direbbero la voce, tirano una lettera dicendo la tal persona che a volte è un professionista diciamo, cioè fa parte della sfera del culto, in parte è una persona estranea che ha avuto un'indicazione per lo più in sogno dalla divinità che è interessante sia le persone non professioniste coinvolte sia la divinità sono di genere femminile per lo più. La divinità è Ishtar di Arbela e siccome questa persona che ha avuto il sogno che dice al re che gli sta per succedere qualche cosa ma al 90% sono vaticini di incoraggiamento del tipo va non temere fai la tal cosa vedrai che va tutto bene siccome le persone che hanno trasmesso il messaggio sono sconosciute questo messaggio va in qualche modo convalidato, verificato allora siccome non si prendevano ancora le impronte digitali ma quasi i segnali, i simboli sostitutivi della personalità erano soprattutto due, la ciocca di capelli e la frangia del vestito e allora allegata alle lettere c'è questi due indicatori che venivano sottoposti a un tipo di verifica che in realtà non sappiamo tecnicamente in cosa consistesse. Dopodiché il re si regolava, faceva quello che gli pareva. Secondo blocco di testi cosiddetti profetici sono le professie neoassire che sono state studiate soprattutto da due studiosi finlandesi, un assiriologo Parpola e uno studioso di Antico Testamento ma anche di Vicino Oriente Nissinen che hanno raccolto e studiato questi testi che a differenza dei testi di Mari che sono delle lettere scritte una volta sola diciamo dei documenti unici, qui si tratta di testi letterari tra virgolette cioè sono delle raccolte di profezie elencate una dopo l'altra e sono del tipo allora Ishtar di Arbela ha detto così eccola e anche qui di norma si tratta di incoraggiamenti e l'incipietto tipico è non temere che si ritrova anche nelle profezie bibliche, non temere e anche dai testi storici soprattutto degli ultimi due grandi re Assurbanipal ci sono indicazioni di questo tipo di comunicazione divina va, non temere, non ti preoccupare, ci penso io, anzi Assurbanipal si fa dire per intenderci dalla divinità non c'è neanche bisogno che vai tu, rimani a casa, mangia, dormi, fai quello che ti pare ci penso io, vedrai che va tutto bene, sono delle raccolte di oracoli il terzo blocco di testi considerati pertinenti ma naturalmente siccome noi studiosi siamo vanitosi e strani allora quelli che chiamano profezie di Mario queste Assire dicono che quelle di cui vi parlerò adesso non sono vere profezie invece quelli che studiano questo terzo tipo dicono che quelle altre non c'entrano niente questo terzo tipo di profezie sono dei testi letterari cioè scritti e poi ricopiati anche entrati nel filone della scuola diciamo delle profezie che delineano uno svolgimento temporale scandito per una serie di regni e quindi in certo senso è stato notato credo giustamente che più che alla profezia biblica hanno a che fare con l'apocalittica cioè in particolare con il libro di Daniele oppure fuori della Bibbia con gli oracoli sibillini comunque queste babilonesi funzionano così dice verrà, sorgerà un re di cui normalmente non si dice il nome se no che profezia è e sorgerà un re il quale regnerà tot anni e sotto il suo regno succederà questo e quest'altro e quello che succederà è di due tipi molto diversi tra di loro o quello che succede sono tutti disastri oppure quello che succede sono tutte cose positive quindi ci sono dei regni buoni e dei regni cattivi vedendo la sequenza e individuando gli anni di regno si riesce a individuare quali sono i re a cui il profeta per così dire allude naturalmente e il succo della storia è che in genere c'è una sequenza di re cattivi oppure un'alternanza di re cattivi e buoni ma insomma l'ultimo è sempre buono nel senso che c'è questo aspetto un po' messianico per così dire cioè dopo tutti i disastri che sono successi finalmente arriverà il re sotto il quale si risolveranno tutte le cose allora queste profezie naturalmente, questo vale per tutte le profezie perché da un lato c'è l'aspetto prevedere il futuro o prevedere il passato come si dice spesso degli storici ma c'è anche l'aspetto politico del perché dire queste cose naturalmente se una profezia di questo tipo è emessa sotto il re appena entronizzato adesso è chiaro che c'è un intento di convalida della sua regalità di propaganda come si suol dire propriamente politica ora questo tipo di profezie ce ne sono di età neoassira ma in ambito babilonese ce ne sono in età babilonese e però ce ne sono ancora in età ellenistica sempre scritte in alcune forme babilonese ma fino all'età ellenistica inoltre in particolare c'è una profezia dinastica dalla quale si vede che ci sono prima l'impero assiro che poi collassa, poi quello babilonese che poi collassa arriva Ciro, c'è l'impero persiano e poi alla fine arriva Alessandro Magno ed è carino che di Alessandro Magno, che non viene nominato ma da quello che si dice si capisce di essere lui, si dice che avrà uno scontro col suo avversario il re persiano e vincerà e questo allude alla prima vittoria, quella di Isso probabilmente e poi la profezia dice che però poi ci sarà una seconda battaglia e Alessandro Magno verrà sconfitto e il paese finalmente ritroverà la pace e allora siccome la seconda battaglia che sarebbe quella di Gagamella invece è stata la sconfitta decisiva, gli assiriologi sono rimasti un po' perplessi di dire come mai questi non sapevano che poi Alessandro avrebbe vinto anche la seconda battaglia il fatto è che il testo dopo sul retro c'ha un'ultima colonna totalmente danneggiata però dalle righe si vede che ci sono tre altre profezie brevissime e allora gli assiriologi dicono che questi saranno i tre successori di Alessandro e poi c'è una quarta sezione un po' più leggibile dove si dice che queste cose però sono segrete e non le divulgate allora io personalmente ho un altro parere cioè mi pare che questa ultima colonna non sia profetica e la profezia si fermi alla grande vittoria di Dario su Alessandro che però non è avvenuta allora se questa mia ipotesi è vera avremo la datazione precisa di questo testo che sarebbe fra Isto e Gaucamela insomma avrebbe un senso il senso di rincoraggiare l'impero berziano dire vabbè adesso abbiamo perso una battaglia però vedrete che la prossima la vinceremo allora quest'ultima tipologia come vedete assomiglia al libro di Daniele e in fondo innesca anche l'idea della traslazio imperi cioè che dopo un impero che collassa se ne fa un altro l'impero assiro, il babilonese, il persiano, quello seleucide e poi quello romano insomma è comunque quest'idea di un'asse importante della storia mondiale fatta di imperi uno dopo l'altro collassano e conoscendo la storia degli imperi passati adesso vediamo che succederà dell'impero futuro ecco quindi questo è un po' l'inquadramento che si può dare poi appunto ci sono dei chiarimenti ulteriori ma siamo già a mezzogiorno quindi smetto, grazie bene la parola al professor Cucca grazie per me è la prima volta non solo a Estoria per credo evidenti motivi di curriculum vitae ma è anche la prima volta a Gorizia per cui sono molto grato di questo invito vi confesso che quando mi è arrivata la proposta di un confronto con Mario Liverani sono rimasto perplesso insomma io non mi sarei invitato ma per un giovane studioso avere una possibilità di questo tipo è davvero un'occasione preziosa come l'intervento di Mario Liverani ha mostrato il profetismo pur se informe modulazioni differenti con la sua funzione di mediazione tra il mondo divino e il mondo umano costituisce un fattore di assoluto primo piano nella storia religiosa del vicino oriente antico ora tra le popolazioni del vicino oriente per motivazioni che non credo sia necessario mettere in evidenza il popolo di Israele l'Israele biblico occupa un posto del tutto particolare ora nel tentativo di cercare di confrontare il fenomeno profetico proprio di Israele dell'Israele biblico con gli analoghi fenomeni delle popolazioni vicine a mio modo di vedere bisogna evitare due tipi di banalizzazione che sono stati prospettati entrambi a fasi alterne nella storia della ricerca sulla profezia il primo tipo di banalizzazione è quello di pensare ingenuamente che il fenomeno profetico sia un fenomeno peculiare dell'Israele biblico e l'intervento del professor Liverani ci mette in guardia da questa ingenuità la seconda modalità di riduzione è quella di pensare che ci sia una assoluta convergenza tra la profezia biblica e le profezie del vicino oriente antico dove i fenomeni si possono collocare sullo stesso piano in realtà la posizione più corretta mi sembra come spesso accade quella mediana per cui è necessario riconoscere le analogie tra la profezia biblica e le profezie soprattutto di mari dell'impero neansiro e al contempo riconoscere che se la profezia israelitica ha lì le sue origini con l'avanzare del tempo se ne è pian piano distanziata un esempio è il diverso modus operandi del profeta Elia e dei profeti di Baal lo troviamo nel primo libro dei re ma è soprattutto il capitolo 18 del libro del Deuteronomio proprio perché è uno scritto tardivo quindi attesta una nuova concezione della profezia israelitica che si è man mano sviluppata dove c'è una sola caratteristica che delinea il profeta biblico quello di essere tutt'altra cosa rispetto ad altri professionisti del sacro gli incantatori, gli indovini, gli scrutatori di frattaglie per cui c'è questa distanziazione ora tra i tratti peculiari della profezia israelitica ce n'è uno che è esattamente quello del suo divenire letteratura è vero che la pratica di consegnare in forma scritta gli oracoli profetici è attestata presso la civiltà di Mari più tardi presso l'impero neoassiro ma è altrettanto vero che il raccogliere i vari oracoli profetici in un libro e addirittura in una raccolta di libri è un fenomeno peculiare di Israele allora io quello che vorrei tentare di fare in modo ovviamente estremamente incompleto è quello di presentare questa letteratura articolando il mio discorso in due punti il primo punto è la formazione come si è formata la letteratura profetica biblica e il secondo punto è quello di cercare di mettere in luce la relazione che questa letteratura intrattiene con le altre sezioni della Bibbia ebraica cercherò di limitarmi non solamente alla descrizione della res dei fenomeni ma di così dare una linea ermeneutica di andare a vedere il perché di questi fenomeni parto allora dalla formazione della letteratura biblica fino a non molti decenni fa nell'atto di interpretare i testi biblici e non solo in ambito cattolico veniva affermata una assoluta coincidenza tra il titolo di attribuzione di un determinato libro profetico e il suo autore reale ad esempio se nel primo versetto del profeta Isaia noi troviamo scritto visione che Isaia figlio di Amos ebbe su Amos e su Gerusalemme da qui derivava che tutto il libro di Isaia dal capitolo 1 al capitolo 66 era uscito dalla sua penna dalla penna storica di un Isaia storico mettere in dubbio, negare questa attribuzione veniva percepito come un attentato alla verità della scrittura per cui la questione in gioco era grossa le cose oggi sono cambiate e sono cambiate di molto sono ormai acquisiti i risultati dell'indagine cosiddetta storico-critica che si è sviluppata a partire dal secolo XIX per cui è ormai pacifico come appunto i risultati di questa indagine hanno fatto emergere che i diversi libri profetici non sono usciti direttamente dalle penne dei profeti di cui portano il nome ma si sono formati attraverso un'attività redazionale molto complessa e scaglionata lungo diversi secoli un'opera redazionale che possiamo delineare in estrema sintesi attraverso una sorta di modello genealogico dobbiamo pensare che all'origine ci sia un periodo anche molto lungo di trasmissione orale che possiamo far risalire nel nucleo alla predicazione orale dei singoli profeti e che poi si sia man mano fermata prima in nuclei molto semplici e poi in ampliamenti sempre più estesi quello che viene a diventare il libro del profeta ora da questo punto di vista il metodo storico critico si è fatto carico di identificare quelli che sono i diversi strati redazionali dei vari libri si tratta incontestabilmente di un approccio indispensabile ad una lettura scientifica dei testi biblici e tuttavia a mio modo di vedere una assunzione univoca di questo metodo di questa ricerca degli strati redazionali delle sovrapposizioni successive se si assume in modo univoco presenta dei tratti problematici che è necessario a mio modo di vedere porre in evidenza la caratteristica principale dell'esegesi storico critica è quella di assumere una prospettiva di lettura che potremmo chiamare valutativa o organizzatrice cioè ci si consacra allo studio minuzioso di parti testuali piuttosto piccole che vengono situate idealmente in una plausibile cornice storica che le avrebbe originate quello che in modo improprio in realtà viene chiamato il Zizimleben cioè il contesto vitale da cui un determinato testo sorge qual è la conseguenza? la conseguenza è che le singole pericopi i singoli oracoli potremmo dire riferendoci ai profeti vengono sganciate da quello che è il loro contesto letterario attuale perché il contesto letterario attuale che è appunto il frutto di secoli di interventi scribali viene ritenuto secondario o addirittura impertinente e allora la pericope l'oracolo il versetto viene inserito dai critici in un nuovo contesto letterario che per la sua forma letteraria o per il suo contenuto viene ritenuto più omogeneo qual è lo scopo? lo scopo è quello di andare al senso originale o senso letterale del brano inteso come ciò che si può supporre pensasse o intendesse comunicare l'autore originario o perlomeno come il senso che potevano capire i primi recettori i primi destinatari la conseguenza è che il senso del testo il testo profetico resta ancorato sul versante del passato per cui il senso di un testo così smembrato resta accessibile solamente a chi si occupa della storia redazionale dei testi i lettori la maggior parte di noi resta esclusa dall'accesso al senso di questi testi per ottenere un risultato di questo tipo si procede sui testi ed un lavoro di tipo archeologico potremmo dire e infatti si parla di strati redazionali analogamente a quanto si parla di strati di insediamento nei diversi siti archeologici si selezionano quelle che si ritengono le parole autentiche le famose ipsissima verba dei profeti che vengono liberate dalle incrostazioni successive perché queste vengono ritenute appunto impertinenti ora da questo punto di vista a mio modo di vedere si assiste ad una sorta di incongruenza perché un metodo di approccio che si definisce storico storico-critico di fatto paradossalmente procede ad una svalutazione indebita del processo storico di elaborazione dei testi perché è proprio in questo processo di elaborazione che invece è riscontrabile una ricchezza interpretativa è vero che molto spesso anzi sempre i testi nella loro fase finale presentano delle incongruenze a livello grammaticale a livello lessicale a livello narrativo a livello tematico ma sono proprio queste ad essere interessanti per l'interpretazione come dire è proprio questo frutto finale di un lungo lavoro a imporre in qualche modo un sistema di lettura io dico ai miei studenti che fare esegesi biblica è un po' come cucinare il pesce bisogna obbedire al pesce e questa cosa l'ho recuperata da un romanzo di Camilleri su Montalbano chi segue Camilleri sa che Montalbano ama mangiare bene il pesce e se c'è una cosa che lo fa andare su tutte le fori è quando il pesce è cucinato male e ho trovato un'espressione una volta si riferiva ad una vecchia signora del paese di Vigate e diceva quella cucina il pesce come il pesce chiede di essere cucinato questo è un criterio geniale che in modo un po' più come dire professionale scientifico indica un criterio epistemologico per cui nessun oggetto di ricerca in questo particolare i testi biblici può essere approcciato se non attraverso un metodo che l'oggetto stesso impone e quindi il testo nella sua forma finale procedere così per sezioni e per valutazione dei testi comporta perdere di vista l'orizzonte globale di un determinato testo che è quello di un determinato libro profetico nella sua forma finale e più ampiamente dell'intero libro che è la Bibbia gli strutturalisti invece ci hanno insegnato che il senso di una porzione testuale un determinato oracolo un determinato capitolo di un profeta non può essere compreso se non se non è inserito nello scritto totale di cui la singola parte è un tassello significante invece a mio modo di vedere è proprio il testo finale come frutto di una lunga e complessa opera redazionale che permette al lettore di inoltrarsi nel senso della profezia biblica perché? perché dal punto di vista biblico attraverso la parola dei profeti è Dio che prende la parola è lui che si intromette nella storia umana ma attraverso i profeti il Dio biblico non ha parlato soltanto a un tempo ma in modo tale che come dire con la morte dei profeti il messaggio concludesse la sua funzione ma è un messaggio che risulta valido anche per le generazioni successive la parola profetica acquista questa attualità rinnovata proprio perché è stata messa per iscritto attraverso un'operazione di continua attualizzazione da parte dei redattori insisto un minuto su questo le parole bibliche dei profeti sono parole appartenenti ad un'ora storica un momento storico ben preciso in cui degli uomini inconfondibili Amos Osea Isaia Geremia sono stati inviati a dei destinatari altrettanto inconfondibili il re di Giuda l'intelligenza sacerdotale del tempio però la portanza delle loro parole non si è esaurita in quell'epoca precisa ma secondo l'opinione dei discepoli quelle parole hanno assurto di volta in volta un significato che andava ben oltre quell'epoca storica restava valido per le generazioni successive poiché è la parola del Dio vivente ad essere in gioco i discepoli la trasmettono a degli esseri umani che vivono in altre situazioni storiche totalmente diverse e con questo ampliamento con questa trasmissione la pretesa della parola profetica cresce se la parola orale di un profeta è destinata ad una determinata classe di persone per esempio ai giudici o ai sacerdoti del tempio o ai contadini la parola tramandata dai discepoli per iscritto avanza la pretesa di essere valida anche per lettori che non appartengono a quelle confederazioni questo è assolutamente decisivo la parola del profeta viene tradotta attraverso questo processo di elaborazione in un tempo nuovo cioè viene attualizzata per nuove circostanze e allora da questo punto di vista mentre l'esegesi storico critica ha impegnato ogni sua energia a ricostruire la figura storica del profeta e le loro parole autentiche di questo dobbiamo essere assolutamente grati oggi assistiamo ad una sorta di slittamento di paradigma nell'affrontare la letteratura profetica con due importanti implicazioni la prima è che l'oggetto di attenzione non è più semplicemente il profeta inteso come la persona originaria che ha prodotto lo scritto bensì oggetto di attenzione è il testo profetico nella sua complessa realtà di corpus letterario in divenire la parola profetica viene continuamente meditata e adattata agli eventi contemporanei e ci parla di una storia in movimento che abbraccia orizzonti sempre più ampi e questo secondo implicanza in diretta connessione implica che non è più possibile utilizzare solamente il metodo storico cronologico nella lettura e nella comprensione dei testi profetici nel tentativo di rintracciare con sicurezza gli eventi storici i dettagli storici che sono dietro ai testi perché le integrazioni le modifiche le nuove strutturazioni del materiale quelle apportate dai trasmettitori con il sigillo di quello che è il redattore finale non sono uno snaturamento del messaggio originario ma al contrario esprimono il dato carismatico di una profezia che continua di una profezia che è condivisa che è coestensiva ad una storia di rivelazione che si protrae nei secoli e allora e passo al secondo punto molto più breve che relazione ha questo corpus letterario nella sua forma finale e canonica con le altre sezioni della Bibbia ebraica accennavo prima al fatto che la linguistica strutturale ci ha insegnato che un testo non può essere compreso e accolto se non nella totalità dello scritto di cui la singola parte è un tassello significante e allora una comprensione della letteratura profetica domanda di essere posta in relazioni con le altre sezioni della Bibbia in modo particolare con la Torah la Torah cioè il nostro pentateuco nella sua forma definitiva è senza dubbio un prodotto molto tardivo che risale all'epoca post esilica in generale possiamo azzardare una datazione della tesura finale al quarto secolo avanti Cristo ora gli studiosi affermano che alla produzione della Torah ha contribuito in maniera decisiva il profetismo sia per affermare la qualità delle concezioni religiose e soprattutto per quanto riguarda il monoteismo sia per precisare delle istanze legislative questo è senz'altro vero e tuttavia è necessario riconoscere una valenza interpretativa imprescindibile alla forma del testo e dunque la posizione canonica e questa ci dice che prima viene la Torah e poi vengono i profeti Torah neviim profeti ketuvim gli scritti quindi sono i profeti che intervengono sulla Torah che si riferiscono alla Torah per renderla efficace nella storia del popolo ho concluso il mio tempo quindi dico solo in 13 secondi che come la profezia diventa significativa attraverso l'opera dei redattori così continua a diventare significativa attraverso l'opera dei lettori lo scritto si sgancia dal suo autore originale e si laccia si abbandona alla libertà dell'interprete grazie parto da queste ultime considerazioni si diceva che tutta questa letteratura è una letteratura che è sempre presente ha avuto sempre la prospettiva di incarnarsi nel tempo cioè c'è una situazione di attualità questo credo sia un elemento che mi permette di fare poi una sintesi il secondo elemento è che il lettore quando approccia questa letteratura ha una capacità di cogliere un perenne che è presente nella figura profetica ed è il tentativo che cercherò di fare sarà presuntuoso ma cercare di cogliere quelli che sono gli elementi che potrebbero essere caratterizzanti la figura profetica certamente con le radici bibliche e determinanti ma anche quello che potrebbe essere la profezia che nasce con quale caratteristiche che in fondo è quello che può interessare a ciascuno di noi dopo aver si dice riletto la storia leggere la storia non vuol dire conoscere la cronologia o gli eventi ma conoscere nel senso allora io parto da una considerazione che mi sembra determinante la figura profetica profeta in ebraico è nabi plurale nebim che è difficile tradurlo non si sa come ma è un proclamatore uno che ne parla perché ha una sua forza nel parlare allora questa figura come la possiamo identificare facendo un esempio così a noi vicino che carta di identità noi dovremmo dare alla figura profetica ecco la figura profetica io la definirei tenendo presente sempre questa letteratura un uomo libero però di una libertà misteriosa mi veniva riflettendo su questi temi di dire in senso buono certamente quasi una persona schizofrenica perché è veramente sdoppiata ed è lì un po' la peculiarità di queste figure perché ad esempio c'è il libro del profeta Geremia che a un certo punto quando racconta un po' la sua figura è un'espressione molto bella dice non posso tacere perché se tacio brucio no veramente brucio però se parlo ad esempio ho tutti contro quindi evidentemente è una persona che si accorge che quello che ha in mano è più grande di lui è una realtà veramente molto molto forte pesante tant'è vero che potrei citare altri due tre brani ad esempio Geremia dice sono giovane come posso io parlare come posso io proclamare evidentemente l'essere giovane non vuol dire avere un'esperienza della vita quindi non riesco a comunicare qualcosa di significativo c'è una bellissima brano di Amos che lì è anche storicizzabile dove dice ad esempio io non sono profeta non sono neanche figlio di profeta è bellissimo in ebraico perché lo nabì anokì che poi si ripete due volte perché dice non sono profeta ma perché non profeta se è profeta perché evidentemente ha in sé capisce coglie non so se la persona ma il libro sì la comunicazione sì si accorge di avere in sé un mistero una realtà grande che lo sovrasta che è più grande di lui altro elemento cito Ezechiele quando vuol profetare deve mangiare il libro deve far sì che quella realtà entri in lui e si faccia parte di lui allora chi è il profeta veramente il mondo religioso ha una terminologia che normalmente ripropone dice colui che sente una chiamata credo che sintetizzare un po' questa realtà in maniera abbastanza forte cioè la vera profezia ripeto non so di chi non so di quale realtà probabilmente dovrebbe essere di tutti e sono siamo qui tutti quando cogliamo in noi un mistero più grande di noi che ci arricchisce ci riempie è più grande di noi è un fuoco che brucia ecco questa è l'immagine ecco perché l'uomo a questo punto dicevo profeta o la funzione profetica è libera sente di non avere da rispondere a nessuno nessuno se non se non a quel tutto che è Dio ecco questa credo sia una delle caratteristiche più belle cioè il disinteressato il libero colui che coglie in sé qualcosa più grande di sé una seconda caratteristica che mi sembra così di voler in qualche maniera riproporvi è data proprio da quale capacità deriva da questa potenzialità se uno ha questa potenzialità quale capacità ha vedete sempre nella letteratura profetica c'è un'espressione che ritorna ancora in ebraico ko amar yavve il termine è così dice yavve un'espressione così letteraria che a prima vista dice pochissimo sembra quasi così quelle divinizazioni o quegli oracoli un po' sempliciotti di cui molte volte si sente parlare no ma lì si dice così dice yavve il problema così pregnante è proprio in quel dire che richiama una delle peculiarità del mondo semita la parola non è il semplice dire la parola è azione la parola è atto creativo ricordo per tutti quanti noi che conosciamo quella prima pagina della Genesi dove si dice Dio disse e la luce fu non è un dire è un creare è una comunicazione è qualcosa di pregnante cerco di descrivere normalmente la parola è vibrazione è suono la parola è lontananza la parola si incarna in strutture linguistiche diverse la parola è molte volte è come sua natura molto semplice ma la parola è comunicazione e la comunicazione può avere dei gradi diversissimi la parola può anche dire falsità può imbrogliare può fare propaganda questa parola profetica è densa di azione creativa è densa di realtà interviene come lettura di ciò che agisce nella storia e cogliere esattamente quello che è l'agire significativo della storia ecco perché il profeta biblico normalmente è l'uomo dell'oggi è l'uomo che è capace di dire nelle situazioni ko amar Yahweh non cosa dice cosa sta facendo è l'agire traducendo del bene del vero del giusto nella realtà è la pregnanza di una storia autentica ecco questo è il profeta il profeta che capisce che questa realtà è più grande di lui ma che è lettura autentica della realtà apre una bellissima parentesi pensate nell'oggi prendere un giornale e dire vorrei essere profeta cioè come rileggere tutte queste situazioni con questa potenzialità che poi va ancora agganciata a due tre cosette che mi sembrano estremamente importanti ecco questo è quel profeta che parla ribadisco non stiamo parlando delle figure delle situazioni ma proprio questa ansia profetica che questa letteratura comunica e diventa di un'attualità unica faccio la battuta un po' scontata pensate un politico profeta sarebbe una meravigliosità ma sarebbe da auspicare ma chi è quel politico tra virgolette a questo punto siamo un po' tutti siamo un po' tutti e credo che questi testi allora sono di una ricchezza di un'attualità è storia ma leggere la storia come realtà come capacità un terzo elemento così per nucleare questa figura profetica diciamo ideale ma molto molto concreta è che il profeta leggo Geremia una espressione quando proprio diceva sono giovane non so come parlare dice quella realtà che poi è messa anche come titolo ecco io ti metto le mie parole sulla bocca ecco io ti costituisco e qui dico le motivazioni per sradicare e demolire distruggere e abbattere edificare e piantare ecco l'azione se un'azione è creativa è creativa del vero due sono le strade le strade chiare quella del distruggere ciò che non è ciò che non è nel senso di validità e qui sarebbe bellissimo nel mondo profetico ci sono campi dove non abbiamo il tempo ma ci sono campi dove il profeta agisce e agisce in maniera vera per distruggere ad esempio nella politica nella politica interviene in relazione a quella che è la regalità e non ha paura di contestarlo di contestarlo fino in fondo pensate un grande sacerdote a Masia che dice questo è il tempio del regno non abbiamo tempo ma provate a pensare cosa vuol dire tempio luogo di Dio che è del regno vuol dire veramente asservirsi della potenza divina idolatrandola come servizio al potere e lui quest'uomo ha il coraggio di dire andrai finire in Egitto sono alla letteratura non certamente alla storia come sia svolta ma è una forza è una capacità di contestare ciò che non va altri elementi di contestazione sono bellissima una realtà che farebbe la pena di tradurla forse un po' più approfonditamente ma ad esempio contestano la religione la religione senza fede dice basta sono tantissimi i brani dei vostri riti dei vostri nuovi luni delle vostre preghiere non li sopporto sono un peso per me i vostri sacrifici non li posso sopportare sembra quasi una persona così arredigiosa che dica basta con la religione con gli atti di religione questi uomini hanno la capacità di dire o questi riti sono espressione di una genuinità della vostra vita o sono idolatria non han paura sono uomini veramente liberi di una libertà creativa dove la parola non è fine a se stessa è costruire un mondo diverso sarebbe interessante rivedere anche altri brani dove si mette in discussione tutta quella che è la struttura sociale contro i sacerdoti contro i profeti i profeti di corte i profeti mestieranti i profeti non liberi e contro perfino agli agricoltori c'è un'espressione nel Isaia 5 che così è di una attualità enorme dice il testo guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio e così restiate solo ad abitare nel paese una contestazione fortissima a caparare a un capitalismo incipiente diremo noi ecco vedete la forza di questa profezia che è di una ricchezza enorme quel distruggere ma la ricchezza enorme e qui arriviamo un po' al clou nuovo vedete quello che si dice la critica negativa siamo capaci tutti di farla e siamo tutti maestri quello che è invece ricchissimo è che alla battere c'è anche la grande forza di costruire non c'è mai una realtà che non venga intravista come possibile di speranza realizzata mi fanno accenno che stiamo finendo quindi non abbiamo più tanta opportunità ma è di una ricchezza enorme ve la traduco così perché almeno a me piace non so se piacerà anche voi ma no è un piacere dovrebbe essere una provozione capire che la vita vera viene dal futuro e noi ci andiamo incontro se ci andiamo incontro vuol dire che la vita avrà sempre una sua forza una sua capacità in ogni situazione c'è speranza ma quella speranza garantita vedete quel mistero di cui parlavo ho usato pochissimo il termine Dio ma se non c'è una capacità del genere evidentemente tutto questo potrebbe essere pura illusione potrebbe essere pura puro sogno e chiudo proprio con un testo un ricordo che vuole essere proprio un'immagine un'immagine di amore sponsale tra quello che è l'uomo e Dio per dire quanta speranza Osea il capitolo 2 versetto 20 pensate messo in bocca a Dio parola efficace ti farò mia sposa per sempre ti farò mia sposa e dice quali sono i regali che io ti darò giustizia diritto benevolenza amore ti farò mia sposa e il regalo sarà fedeltà fine di tutto questo conoscerai il Signore avrai l'esperienza della bellezza della verità di quello che noi diciamo realizzazione ecco il mondo profetico andrebbe riscoperto auguro a tutti quanti noi nel cuore di ciascuno di noi grazie 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 grazie